musica 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 bella a tutti ragazzi qui di 3Gamers bella per la prima volta dopo 24 mesi insieme tutti e tre e siamo qui con una cam in zona di lancio fatta in 3 minuti e 36 esatto eh non c'è tanto da dire sulla classe in teoria è sempre la stessa no cambia la mimetica è la stessa e è più potente con la mimetica così secondo me quella ora è più potente di tutto ah no cambia cosa? i perk sono diversi perchè è zona di lancio attenzione allora sentiamo i perk allora i perk ovviamente avevo invisibilità che in zona di lancio è fondamentale poi assassino non so come si chiama qua su ghost non mi ricordo fantasma occoltamento e sciacallo perchè non hai casse e munizioni cioè non hai le specialità le ricompense uccisioni bene e il video può finire qui in solo fate in solo su Xbox One su Xbox One con Kinect un po' di scherzi un po' di scherzi innanzitutto Gene tra poco farà l'esame terrà l'esame allora sì di maturità di maturità mi devo laureare in sciabatteria in scienza e tecnologia in paninaro quindi dopo posso andare per le scuole a vendere panini il bordo anche il bambino vabbè e nana a parte di sta cosa qua allora stiamo lavorando un video speciale per l'estate esatto dove accendiamo tutte le più grandi cazzate se ne è venuta in mente una ieri sera proprio da rifare è fatta bene però e quindi diciamo solo una parola ghetto ma che ghetto arabian ghetto proprio arabi inglese e canzone e canzone non so se riesce a metterla nel video per due secondi vabbè allora anche se non la mette comunque è una canzone epica faremo sto cazzo di video e bom io ho registrato alcune clip di robato troll mi raccomando vedetelo perchè ci perdo veramente un occhio della testa a farlo sia anche nel rendering perchè io ho un computer del 32 bit esatto e non dimenticate di lasciare sempre like nei nostri video e di commentare un'olta via eeeh eeeh allora la salvo attenzione allora poi è tutta la stessa da allora la testa posto le vede e eeeh eeeh delle canno raggiungono circa 80 visualizzazioni Vabbè, anche 100 Per l'amore del cielo E 20 like Ma se cazzo Allora, in un video trovate la parola porno Vi fiondate È una nuova incredibile Vi fiondate E 270.000 visualizzazioni Siete proprio dei morti, Ari Morti di... Morti di moschea Però i like non ci sono Sì, vabbè, ce ne sono 15 Dai, fate anche sto sforzo qua A vedere anche gli altri video Cioè, cosa vi costa tanto Cioè, poi fate quel cazzo che volete Com'è, ormai gameplay è finito Esatto Se vi è piaciuto lasciateci un like Non manda di commentare Perché ci teniamo sempre ai commenti Esatto Sì, fanno anche piacere per noi Cioè, non è che è un obbligo Però vedere un video che raggiunge Con le altre visualizzazioni là per noi Piuttosto di vedere tantissimi like Noi preferiamo anche vedere un po' più di commenti Giusto per far vedere che i nostri iscritti sono attivi Esatto E niente, un saluto Beh, sì, è tutto Bella Bella Bella, bella Grazie per la visione